Collegione, innanzitutto lei esprime solidarietà per quanto accaduto agli agenti di polizia? Sì, certamente. Questa è la prima cosa a cui tengo particolarmente, per cui mando il mio abbraccio ai due agenti di polizia che hanno sofferto questa situazione da parte mia e anche da parte di tutto il partito di Fratelli d'Italia. Un fatto increscioso, ha detto. Sì, siamo arrivati al punto che due servitori dello Stato, due agenti di polizia, per chiedere dei documenti a dei facinorosi delinquenti ubriaconi si arriva ad essere spintonati, ad essere aggrediti fino alla violenza fisica. È veramente una cosa inaccettabile, soprattutto poi anche a Fano, che è stata sempre una città abbastanza tranquilla e ormai da tempo si stanno verificando episodi che fanno molto riflettere. Che cosa si potrebbe fare, secondo lei, per migliorare la situazione e soprattutto la sicurezza? Innanzitutto sappiamo tutti benissimo che il primo interesse deve partire dagli organi istituzionali del governo. Su questo non ci sono dubbi, però senz'altro localmente dobbiamo dare la nostra spinta. Io continuo a dire, a lanciare il mio messaggio anche al prefetto perché si faccia veramente una voce forte a Roma e magari se fosse supportato anche dai sindaci, tutti i sindaci della provincia, sicuramente ci sarebbe una valenza più importante. Abbiamo più volte noi detto, ripetuto e lanciato e denunciato che le forze dell'ordine soffrono una situazione di organico abbastanza importante. Fano siamo ridotti alla metà.